musica 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 ma siamo in Tadiston Island abbiamo perso il conto vogliamo fare un breve riassunto settimana scorsa Supercoppa oggi Coppa dei Campioni il titolo scudo lunedì beh l'avete già vinto comunque va dallo scudetto matematicamente insomma siete infiniti oggi partita di un livello decisamente straordinale contro degli avversari che probabilmente li troverete nei play-off questa cosa che avete visto te ho visto un po' gli incroci secondo me, visto la loro qualità probabilmente ai quarti ci becchiamo loro insomma una bella squadra bella squadra anche voi credo che una parola su voi perché voglio dire voi siete sempre voi noi mancava solo questa esatto vedi adesso potete andare adesso diciamo che è stato messo l'ultimo però certo è che quel campionato che è sfuggito l'anno scorso si è vero perché tu parli di ciclo no per dire per motivarvi perché vincete sempre quasi tutto però c'è il campionato ancora da vincere quindi il giro si perfetta solo così il calcio è un po' infame il calcio è un po' infame non sempre si vince tutto però per il momento diciamo che vincete parecchio dai ci rivediamo nei play-off quindi è l'unica me l'abbiamo vinta però quell'unica me l'abbiamo vinta però è un problema effettivamente però l'avete vinta l'ultimo di Pappagallo però loro ci tengo a dire grande squadra quindi gran livello in Serie C uno pensa che invece no grazie mille anche per le 90 squadre ricordiamole ciao a tutti ciao